Erano le 10 del mattino quando un vitello appena nato è stato azzannato da un lupo nei pressi dell'azienda agricola dei fratelli Ambroge a Isola del Piano. L'animale è morto dopo circa mezz'ora dall'aggressione a causa del morso che ha perforato il polmone. Vani tentativi di soccorso da parte del proprietario in quanto il vitellino è stato trascinato in fin di vita a pochi metri dal luogo in cui è avvenuta l'aggressione lasciato poi dal predatore nei pressi di un palo bianco generico della luce nelle immediate vicinanze. Il vitellino l'ho trovato vivo, ancora ferito assieme al lupo che si rotolavano nel campo. Il lupo è andato via, io ho portato via il vitello che dopo mezz'ora è morto. Ovviamente il lupo come mi diceva l'ha trascinato fino a pochi metri poi dalla distanza. 100 metri più o meno, l'ha portato fino al confine del recinto che lo portava via. Questi episodi non sono singolari, mi diceva che sono capitati anche altri. Ma più di una decina di volte, sui vitelli e anche su un asino mi ha portato via. E' la prima volta che trovo l'animale morto, se no non l'ho mai trovato. L'azienda agricola vanta di numerosi esemplari di animali tra cui mucche, vitelli, occhi e galline e la presenza costante dei lupi sia di giorno che di notte preoccupa per l'incolumità degli animali ma anche dei bambini presenti all'interno. Da come ci raccontano i proprietari da diversi giorni si aggira nella zona un utrito branco in cerca di prede. La paura è tanta, ci raccontano fuori dalle telecamere, in quanto è possibile che i temibili predatori possano entrare anche all'interno dell'abitazione ubicata nelle immediate vicinanze alle stalle.